Siamo al servizio dei nostri clienti e del mondo in cui viviamo. BNP Paribas è nata dall'integrazione di banche legate da due secoli all'economia europea e globale che hanno saputo adattarsi nel tempo alle sfide della loro epoca, rimanendo al fianco dei loro clienti e dei loro stakeholder nei momenti di grande cambiamento. Offriamo servizi finanziari sicuri, performanti e innovativi alla clientela individual, corporate, istituzionale e ai professionisti, impegnandoci al tempo stesso per affrontare le sfide fondamentali del nostro tempo in materia di ambiente, sviluppo del territorio e inclusione sociale. Siamo al fianco dei nostri clienti per un futuro migliore. BNP Paribas aspira ad essere partner di lungo termine per i clienti, sostenendo i loro progetti, gestendo i loro investimenti e risparmi e, attraverso le assicurazioni, proteggendo le persone, i loro beni e le loro proprietà. I dipendenti di BNP Paribas desiderano fornire un'attività che abbia uno scopo per i nostri clienti e per il mondo che ci circonda. Dialoghiamo con tutti gli stakeholder e abbiamo adottato obiettivi sociali e ambientali in linea con gli standard globali, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e quelli che disciplinano la comunità finanziaria, come i principi per un'attività bancaria responsabile o i principi per gli investimenti responsabili. Ci impegniamo affinché l'etica e il nostro impegno per la responsabilità economica, sociale, civica e ambientale siano parte integrante dei nostri processi operativi. Questo impegno si rispecchia nella nostra organizzazione e nelle procedure che disciplinano l'attività dell'azienda. Promuoviamo l'innovazione per affermarci come leader nel campo della finanza sostenibile. Scendiamo in campo per sostenere cause importanti, mettendo insieme offerta commerciale, partnership con gli stakeholder, iniziative come datore di lavoro, politiche di acquisto, progetti solidali, iniziative filantropiche, programmi di volontariato aziendale e di sostegno all'imprenditorialità. Sviluppiamo strumenti destinati a misurare il nostro impatto ambientale e sociale, concentrandoci su azioni che coinvolgano tutti i dipendenti. BNP Paribas. La banca per un mondo che cambia.